Gentili telespettatori, buona giornata. Sondaggio Ghisleri per la stampa sulle politiche nazionali. Lei è la direttrice di Aeromedia Research. Giorgia Meloni al 29,6% con Fratelli d'Italia. Il PD fa un balzo e guadagna il 2,1% ed è al 19,6%. A pagare invece il Movimento 5 Stelle che crolla dell'1,3 punti percentuali in 7 giorni e si porta al 15,6%. Quindi i grillini starebbero pagando un prezzo alto con l'arrivo di Schlein ai vertici del PD. Matteo Salvini sale al 9,4% in crescita dello 0,4%. Poi azioni Italia Viva al terzo polo di Calende, Matteo Renzi in ascesa dello 0,2% all'8,3%. Male Forza Italia che perde lo 0,8% al 6,9%. Paragone con Italia Exit al 2,5% più Europa al 2,4%. Alleanza Verdi al 2%, noi moderati allo 0,5%. Grazie a tutti e buon proseguimento di giornata.